Ciao a tutti, io sono VistoAvvistato e questo video serve sostanzialmente per avvertirvi di tante cose che arriveranno, scusate, avvicino il microfono. Innanzitutto ci sono aggiornamenti per il canale, ho fatto questa pausa per riflettere bene su cosa fare, cosa portare sul canale, portare qualità o portare più cose schifose ma tante, no, preferisco portare qualità e meno video. Qualità ho gridato, qualità e meno video, quindi adesso vi dico esattamente che cosa porterò. Mi sono scritto un attimo le cose perché se no non si capisce niente su quello che devo dire. Per prima cosa vorrei scusarmi per il video perché fa un po' schifo, perché è un po' sgranato, la luce fuori non c'è, non ho una telecamera bella, non ho luci potenti, quindi almeno qualcosa si vede, ok? Così fa schifo. Voglio portare la qualità sul canale, quindi lunedì vi troverete delle domande no sense dalla rete, quindi ci saranno domande no sense su internet in generale. E io le leggerò e magari risponderò. Quindi domande no sense che mi lasciate voi, oppure delle domande no sense che si trovano su internet, sulla rete. E questo sempre ogni lunedì. Poi, il mercoledì invece porterò o una canzone dedicata a qualcosa, infatti mercoledì, scusate che guardo un attimo il giorno. Mercoledì 23 ci sarà la canzone dedicata a Pokémon, sole e luna. I verità oscure ci saranno sempre e in particolare questo venerdì ci saranno le verità oscure su di me. Avevo detto che le portavo ai 10.000 iscritti, sono arrivato ai 10.000 iscritti e venerdì ci sarà lo speciale 10.000 iscritti con le verità oscure su Visto Avvistato, me medesimo. Invece domenica ci saranno video come quello, come accendere la luce, come spegnere la luce, quello dove rompe il telefono. Ci sarà un video che dura poco, comunque sui 10-15 secondi. E basta, sostanzialmente questo è quello che porterò sul canale. Se non riuscirò a portare o una canzone o domande nascoste sulla rete o un video come quello di spegnere la luce, magari vi porterò una parodia perché ho idee su parodia di Facebook, parodia di YouTube, parodia di Twitter. Ma non saranno le tipiche parodie dove c'è la telecamera, a me non mi vedrete perché sarò sempre dietro al microfono. Però sarà un... com'è Facebook realmente, com'è YouTube realmente, ok? Sarà una roba del genere. Spero che questi aggiornamenti vi piacciono, che siano comunque migliori perché comunque un verità oscure più volte a settimana rischia di essere molto molto noioso, sia per me che per voi. Noioso anche perché magari porto un video un po' più schifoso degli altri, porto un video un po' fatto così veloce solo per caricarlo. Invece no, preferisco portare qualcosa di carino, qualcosa fatto meglio, una parte scritta meglio, delle battute brutte ma più belle, capito cosa intendo. E niente, spero che vi sia interessato tutto. Se vi è interessato tutto lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video così almeno più persone lo vedranno e più sarà possibile arrivare ai 20.000 iscritti. Lancio una sfida. Se entro il 30 gennaio del 2017, io arriverò ai 20.000 iscritti, cosa succederà? Succederà il finimondo. Perché? Perché io farò la mia prima live su YouTube, ok? Ok. Perfetto, dove risponderò alle domande degli utenti e tutte queste cose qua. Quindi mi vedrete in live. Se arriverò ai 20.000 iscritti entro il 30 gennaio, perché non mi ispirano tanto le live, però se arrivo ai 30.000 iscritti la farò, la farò. Live su YouTube ovviamente, Twitch non mi piace tantissimo. Ah, una cosa, se vedete sempre muovere la telecamera ho scoperto che non sono io che muovo la gamba ma è proprio l'obiettivo che fa schifo il genere. Non c'è nessuno qua dietro che riprende se volete, se proprio siete interessati a vederlo. Sono, sono, cioè, non so cos'è, non me ne intendo tanto. Sarà l'otturatore, sarà il, boh, non lo so cos'è. Comunque è questa cosa che fa schifo. Cioè fa schifo, si sarà distrutta a 20 anni sta telecamera. E quindi niente, se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, un commento, condividi il video per farlo vedere a tutti, così arriverai ai 20.000 iscritti entro il 30 gennaio. E ciao a tutti da Avvisto. Avvistato, avvistato. Ciao. No. Avvistato. Avvistato.